Siamo qui con Uccio Savoca, capitano di Airstyle, finita 5-5 l'ultimo secondo, che partita è stata Salvo? Il tuo racconto è una partita un po' pazza possiamo dire. Diciamo che è stata una partita abbastanza movimentata, purtroppo abbiamo subito il gol all'ultimo secondo e per la prossima partita cercheremo di fare meglio. Partita piena di cavolgimenti di fronte, vincevate 2-0, come mai non siete riusciti più volte a tenere le retini dell'incontro? Guarda, non lo so nemmeno io, purtroppo come hai detto tu è stata una partita molto pazza, attaccavano loro, attaccavamo noi e alla fine pensavamo scusa di portare la vittoria a casa però hanno pareggiato. Forse è mia opinione, potevate sfruttare meglio le sostituzioni, avevate uno in panchina o no? Sì, questo sì, però anche alla sportuna abbiamo fatto due autogol quindi potevamo andare meglio. Comunque il campionato rimane nelle vostre tasche, siete ancora primi credo, non solo il risultato dell'altra gara? No, no, non penso. Non penso perché il sapore di casa mi sembra che ha vinto, quindi sono passati i primi e poi i game over hanno la partita a tavolino quindi siamo terzi. La qualificazione comunque è nelle vostre mani, potete farcela? Speriamo di farcela, la squadra c'è quindi lotteremo fino alla fine. Pensate di attuare qualche cambio col mercato oppure no? Guarda, penso qualcosina la faremo. Va bene, grazie.